Anche per loro è arrivato il grande momento. Una decina di caprioli allevati amorevolmente nel centro faunistico Il Pettirosso di Modena sono ormai pronti per raggiungere una combriccola di ungulati nel parco dell'Adamello in provincia di Brescia. Dopo il lungo viaggio all'interno di una cassa, adesso è l'ora giusta per correre senza freni e assaporare il ritorno in natura. Il merito è di un progetto partito cinque anni fa che punta a ripopolare una zona, il parco dell'Adamello, dove di caprioli ne erano rimasti veramente pochi. Su queste alture alla fine saranno una sessantina gli esemplari maschi, femmine e soprattutto giovani. Caprioli trovati nei boschi dell'Emilia Romagna, cuccioli e non solo, animali smarriti nei sentieri, intimoriti, morti, abbandonati dalla propria madre e perciò anche malnutriti. Al centro faunistico c'è chi si è preso cura di loro, chi li ha aiutati a crescere. I primi caprioli liberati qui hanno già avuto l'occasione di metter su una bella famigliola, adesso tocca a loro cominciare a dare una mano.